Valentina, come posso distinguermi da tutti gli altri su LinkedIn? Ecco, a parte LinkedIn, distinguersi significa essere se stessi. Cosa vuol dire? Essere se stessi significa parlare esattamente come parli durante tutti i giorni. Io parlo esattamente così, magari certi giorni sono meno in app, ma a parte ciò sono me stessa. I miei amici mi riconoscono quello che faccio quando vedono questi video. Questo è molto importante perché nel tempo si è un po' persa l'autenticità. Ti sto parlando dal mio ufficio di Milano, è una giornata normale dove io registro dei video e dove semplicemente ti spiego esattamente quello che io so fare. Le mie nozioni, ti do il mio know-how, la mia sapienza per quello che è la mia professione. Ecco, quello che devi fare è semplicemente questo. Uscirà fuori il tuo carattere e solo le persone simili a te alla fine verranno a seguirti. Non ci puoi fare nulla, arriveranno da sole. Ovviamente piano piano puoi migliorare le riprese e tutto il resto, ma quello che conta è l'autenticità. Io sono Valentina, mi raccomando, seguimi, ciao!